Buongiorno a tutti, allora magliettina nerazzurra, vi ho parlato delle Olimpiadi, adesso bisogna parlare della situazione. Le ultimissime che mi sono giunte dai gruppi nerazzurri, dal gruppo Inter, Mister G eccetera eccetera, diciamo che la situazione c'è l'ammutinamento generale, nel senso Marotta, Ausilio, Baccino e Zanetti, i conference call con la Cina hanno fatto capire chiaro e tondo al buon Zhang che se dovesse essere venduto Lukaku danno tutte le dimissioni e vanno fuori dalle balle e se dovessero fare una cosa del genere gli Zhang si trovano spiazzati perché loro di calcio ne capiscono quello che ne capiscono e hanno bisogno di buoni collaboratori come quelli che hanno appunto. In più c'è stata la telefonatina tra Suning e Oatree che da quello che si evince ha fatto capire chiaramente che loro hanno investito dei soldi eccetera ma avevano la garanzia che non si sarebbe smantellato la squadra. Vendere Lukaku significa smantellare la squadra perché poi può succedere di tutto di più. Già un giocatore che ti dice che ha giurato amore eterno alla maglia e tutto quanto, sto bene all'Inter, ringrazio i tifosi dell'Inter, non sono stato mai così bene all'Inter eccetera eccetera. Poi anche lui si rende conto che parte Conte, parte a Kimi, vogliono cedere anche lui, non c'è babbole, non c'è una lira, il Chelsea gli offre l'opportunità di dimostrare che quando l'hanno cacciato hanno fatto un'enorme puttanata, voi capite che anche lui dice chi me lo fa fare di stare qua a fare il curucù, a fare l'antenna che prende il parafulmine della squadra eccetera, quando posso andare a giocare con i campioni d'Europa, giocarmi uno scudetto, giocare per la Champions per fare il bis, dimostrare che sono fortissima, che hanno sbagliato a mandarmi via eccetera eccetera eccetera. Poi signori qualcuno diceva ah Lukaku, Lukaku non ha detto sì. Lukaku ha semplicemente detto signori io all'Inter sto bene, se volete vendermi vendetemi, non è un problema, se volete che resto io resto volentieri, se volete che parto io parto. È passato dal dire non andrò mai al Chelsea a dire signori se volete vendermi vendetemi, cioè ha passato la palla alla società. Da quello che si vince Marotta è contrario alla vendita di Lukaku, ausilio per quello che può contare era contrario anche lui, Baccino era contrario, Zanetti era contrario. Chi ha detto ok cediamolo è la Cina. Adesso vedendo la reazione dei tifosi, vedendo la reazione della dirigenza che è contraria eccetera, capite che gli Zan non si possono permettere di restare presidenti lì dell'Inter eccetera con tutti contro perché se dovesse dimettersi Marotta, Zanetti eccetera 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 loro praticamente è meglio che restano in Cina e non si fanno più vedere perché come mettono piede in Italia non so cosa può succedere perché il pazzo c'è sempre senza contare che c'è gli ultra che sono imbuffaliti. Marotta tra l'altro come ho già detto quando ci mette la faccettina ci mette la faccettina quindi non ha voglia di fare figure di merda perché se lui dice una cosa quella cosa è quella. Se lui dice ti offro questa cifra per quel giocatore quella cifra è quella inutile che cerchi di alzare eccetera questa è la cifra se ti va bene così se non ti va bene così perché essendo una persona seria e un professionista serio eccetera lui queste cose qui non le può sopportare. Adesso pare che Zan vedendo la situazione abbia detto ma allora magari anche no però a sto punto non vorrei che questi vanno a vendere Lautaro eh per la felicità di molti non la mia perché se vendono Lautaro mi girano a elica uguale tra l'altro Lautaro non riesce a prendere delle cifre enormi come Luca Cone perché non te li danno 130 milioni perché noi fessi no perché i geni della lampada c'era la clausola a 111 lascia se devi togliere la clausola a 111 per poi venderla a 80 sei un coglione scusate il francesismo cioè la clausola doveva servire come deterrente la togli perché così almeno il prezzo lo fai tu cosa fai lo vendi a meno il genio della lampada il genio della lampada. Prima avevamo paura che magari arrivasse qualcuno con 111 milioni e tu non potevi fare nulla. Adesso lo vanno a vendere a 80 magari è vero che qualcuno ha detto eh ma per Lautaro non ci sono offerte non lo so se non ci sono offerte per Lautaro le offerte per Lautaro ci sono è che ci sono tutti col bracino ino ti do 40 milioni e due scarti e due due di picche no ciccio mi dai 80 milioni di due di picche non mi interessano perché fanno le offerte così no 30 milioni più quattro cinque giocatori scrausi che non ti servono che non vedi l'ora di levarti dalle palle come quel difensore che doveva arrivare all'Inter che adesso l'hanno spedito in Inghilterra era andato via dalla squadra portoghese voglio restare al Barcellona eccetera eccetera l'ha già spedito in Inghilterra in prestito qua 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 questo per farvi vedere quanto quanto gli interessava quel giocatore lì vedremo vedremo cosa succederà domani ne sapremo sicuramente di più forse stasera ne sapremo sicuramente di più diciamo che le news sono un attimino più positive per noi tifosi nerazzurri però sinceramente io non vedo l'ora che dispiace perché comunque Suning molti adesso accusano Suning ma Suning aveva detto adesso parliamo un po' anche di loro perché è giusto anche giustificarli ragazzi quando tu ti sposi dici mi sposo una volta sola sono felice e contento eccetera poi dopo un anno e mezzo che stai con la tua nuova nuova moglie eccetera ti rendi conto che non c'entrate una beata ma Giovanna assieme perché magari come mi spiegava tanti tanti secoli fa oramai un ragazzo mi fa io sono stato fidanzato dieci anni con una ragazza siamo andati a convivere sei mesi anzi ci siamo sposati perché dopo dieci anni assieme ci siamo sposati dopo sei mesi abbiamo divorziato perché mi diceva un conto è vivere vedendosi una volta alla settimana o due alla settimana e un conto è vivere assieme nella stessa casa quindi tu non puoi sapere quello che succederà nel futuro Suning due anni fa non poteva immaginarsi che arrivava la pandemia che hanno creato i suoi fratelloni cinesi per qualche motivo ridicolo perché adesso si trovano nella merda perché gli hanno bloccato tutto perché qui perché su perché giù perché su di fattura l'ultima l'ultimo conteggio di Suning ha fatturato qualcosa come 36 miliardi 36 miliardi vi sembra una società in perdita una società che fattura 36 miliardi poi bisogna vedere cosa ha speso perché magari se tu fatturi 36 miliardi ma ne spendi 40 sei sotto di 4 però con dove cazzo gli hai spesi sti soldi perché per l'Inter non ha speso meno di un miliardo ha speso 700 700 milioni da quello che raccontano che dicono non è che hanno speso 8 miliardi per l'Inter e adesso continuano a fare prestiti su prestiti eccetera l'Inter purtroppo sapete benissimo che per noi lo stadio è basilare perché mediamente facciamo 60 mila persone ad ogni partita tra abbonati 37 mila e 500 abbonati e la gente che va allo stadio quando va male ci sono 20 mila spettatori in più dei tesserati tenendo conto che poi magari qualche tesserato non è neanche allo stadio perché per vari motivi non va a tutte le partite e ne conosco tante le persone che fanno l'abbonamento poi vanno a 10 11 12 partite io ricordo quando avevo l'abbonamento all'Inter tendenzialmente andavo quasi tutte le partite salvo che non ero moribondo a letto con l'influenza se no andavo a tutte e spesso e volentieri c'erano le persone vicino a me che hanno l'abbonamento a volte non c'erano le vedevo magari dopo un mese dice però non sei bene sì perché sai gli acciacchi perché al primo anello verde c'era tutta gente di una certa età le famiglie coi bambini persone di una certa età persone che si ricordavano l'elbo meazza addirittura perché c'era gente anche io ho iniziato nell'82 83 ad andare allo stadio quindi nell'82 83 c'era gente che magari meazza l'aveva visto nel 2000 magari no magari mi parlavano più che altro di della grande inter però c'era anche gente che aveva visto meazza quindi magari c'era il vecchiettino di 70 75 anni abbonatissimo all'inter da sempre eccetera 5 6 partite all'anno vedeva però la società da quelle tessere incassava le sue belle cifre ne pagavamo 300 euro o 600 mila lire i tempi quindi abbiamo perso anche da lì ripeto se il celsi non arrivava a rompere i coglioni l'inter lucacco non lo vedeva è logico che se arriva una società ti spara 130 milioni per un giocatore di 28 anni capisci che vacilli il problema è con chi lo sostituisci perché sai sera l'anno prossimo ci stava tu hai già in mano magari raspadori e vlaovic che hanno fatto un campionato della madonna vedi lucacco ti porti a casa quei due lì lucacco già ne ha 29 ci può stare in più devi rinnovargli il contratto vuol dire altri magari non ne vuole 7 e mezzo ne vuole 10 quindi ci poteva stare ma quest'anno non hai in mano dei giocatori che possono essere li prendi e fai e fai tanta roba quindi vendere lucacco adesso vai a arrampicarti sui veti con con l'allenatore nostro che va a chiedere correa a prescindere che arrivi o meno cioè io capisco che l'hai avuto a parte di andare a prendere un giocatore alla lazio lo tito ti chiede l'autaro è capace di chiederti l'autaro volete correa ci date l'autaro facciamo lo scambio alla pari conoscendolo ci odia gli abbiamo portato via l'allenatore anche se ha portato a casa il buon sarri grande libidine per me ci ha guadagnato non perché i zaghi sia scarso ci mancherebbe per me se non gli smantellano la squadra il zaghi farà un gran campionato ve lo dico sinceramente poi se mi sbaglio chiederò venia ma questa è abituata ad avere a parte milico vissavic e ciro immobile e lui e gigione alberto per il resto non è che aveva chissà che squadra nella lazio eppure con lui tre trofei li hanno portati a casa delle finali li hanno fatte il champions li ha portati sempre sopra il girone solo l'anno scorso è andata male e tenete conto che l'anno prima se non c'era tutto il casino del magari la lazio poteva anche riuscire a vincere lo scudetto proprio perché le altre avevano le coppe loro no attendiamo ragazzi io sono fiducioso perché il fatto che tutta la dirigenza al completo dia le dimissioni ma soprattutto ci sia stata la telefonata tra oa tri e suning mi fa ben sperare poi se poi lucaco dice signori no sono io che me ne voglio andare fatevi dare i 130 milioni allora un altro discorso ma siccome il buon pastorello ha continuato a dire che lui dall'inter si trova bene e se non gli fosse arrivata la proposta dalla dal celsi non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di andare via mi auguro che se su altri metà cuccia suning e magari li obbliga anche a vendere ci salviamo ci salviamo ripartiamo con una nuova proprietà ripartiamo con un nuovo progetto spiace per suning perché ripeto da quando sono arrivati ci hanno risanato tutto quanto ci hanno portato nuovamente in champions hanno fatto in modo che abbiamo giocato una finale di europa league persa per sfiga e abbiamo portato a casa uno scudetto però se poi dopo mi devi fare il craniotti della situazione o il tanzi della situazione e mandare tutto a ramengo perché non certo per colpa dell'inter ma per colpa delle dei casini cinesi capisci che non mi sta più bene detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio attendiamo le news appena ce ne saranno degli altri vi ragguaglierò il fatto che il gruppo mister g inter eccetera mi abbia detto questa cosa qui mi fa ben sperare per il futuro ciao ciao